Musica Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti ad Attenzi al Lupo. Questa sera parliamo della casa, in particolare dei mutui, perché c'è un decreto, un decreto da parte del governo che cambia anche la questione del rapporto tra il cittadino, la famiglia che ha sottoscritto un mutuo e le banche. Di che si tratta? Ne parleremo questa sera con i nostri esperti, i nostri ospiti, ma come sempre molto attenti, i nostri telespettatori, un decreto di pochi giorni fa, ci avete scritto in redazione e abbiamo preso lo spunto per questa puntata. Buonasera, Melania. Buonasera a te, Giuseppe, buonasera ai nostri telespettatori. Esatto, i nostri telespettatori sono molto attenti, ma soprattutto ci hanno seguito, come dimostra questa lettera giunta in redazione qualche tempo fa. Spettabile redazione, in una vostra puntata avete accennato all'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un nuovo decreto mutui. Per noi consumatori che abbiamo stipulato un contratto di mutuo tanti anni fa, cosa cambia nello specifico? Ho sentito parlare di una nuova regola relativa al pignoramento della casa dopo un anno e mezzo di rate non pagate. Si applica a tutti, anche a chi ha contratto mutuo negli anni passati. E che succede se la banca si prende la casa? E soprattutto se il valore dell'immobile è maggiore del debito residuo? Io, consumatore, ho diritto all'eccedenza? Confido nelle vostre risposte. Un saluto da Fabio di Livorno. Allora, seguiteci se volete saperne di più sul decreto mutui. Noi siamo in diretta, partecipate e fate telefonate. Il nostro numero verde è 800 508 990. E allora cerchiamo di dare risposte a Fabio e non solo a Fabio perché in qualche modo il mercato immobiliare vogliamo capire se c'è una rinascita, insomma, se c'è un nuovo slancio di questo mercato immobiliare delle case. Parliamo con i nostri ospiti che saluto Fabio Picciolini dell'AD Consum. Buonasera Picciolini. Buonasera, lo ringraziamo. Il Presidente della FIAIP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, Paolo Righi. Buonasera Presidente. Allora, il nostro telespettatore ci ha dato un ventaglio enorme di domande. Insieme a rispondere. Questo decreto, Picciolini, è un decreto approvato pochi giorni fa. In che cosa consiste? Chi soprattutto sono i destinatari? Poi vedremo la sostanza. Allora, il signor Fabio di Livorno non ha nessun problema perché sono esclusi i mutui già sottoscritti in passato dall'applicazione di questo decreto. Quindi riguarderà solamente mutui sottoscritti dopo l'entrata in vigore, che ancora non c'è stata, di questo nuovo decreto, che è il recepimento di una direttiva europea. Per quello che invece riguarda i nuovi mutuatari, cioè coloro che sottoscriveranno, immagino, da metà maggio in poi all'incirca, a quel punto lì si applicheranno tutte quante queste regole. La domanda specifica di Fabio è molto semplice. Nel caso in cui dovesse perdere casa, che ovviamente non la curiamo mai a nessuno, e la casa avesse un valore superiore al suo debito, riceverà indietro i soldi in più rispetto al proprio debito. Presidente Righi, all'inizio si parlava di sette mesi. Se io ho un mutuo e non riesco a pagare per sette mesi il mutuo alla mia banca, la banca si prende di fatto la casa. Poi è stato aumentato a 18. Sono 18, siamo tranquilli che non cambi qualcosa, perché c'è un balletto sempre di mesi che ci preoccupa sempre tanto. 18 mesi. Qual è il vostro giudizio? È qualcosa che penalizza chi compra casa, che favorisce le banche? Qual è il vostro giudizio complessivo? Il giudizio complessivo è sostanzialmente in pareggio, nel senso che le sette rate erano un abominio, perché si sarebbe trattato il fatto che le banche sarebbero potute impossessare della casa dopo solo sette rate. Sette rate di un mutuo possono variare tra i 7 mila euro o i 3 mila euro, quindi era un fatto che noi abbiamo stigmatizzato e insieme a noi, che abbiamo lanciato l'allarme, insieme alle associazioni dei consumatori, tante forze politiche. Quindi anche il governo ci ha ascoltato, siamo passati a 18 rate. Noi siamo contrari al fatto che chi presta il denaro possa impossessarsi e diventare proprietario della casa, ma questa norma viene mitigata, questo abominio a nostro parere, viene mitigata dal fatto che se il cliente non paga, qualsiasi sia la somma residua, comunque lui non è più impegnato con la banca, mentre oggi con l'asta viene venduto l'appartamento e il debito residuo accompagnerà il debitore per tutta la vita. Invece qui si va a saldo e stralcio, quindi si pone la parola fine. Se io non riesco a pagare per 18 mesi, non ho la possibilità economica di pagare questa rata del mutuo, arrivata a un certo punto si andrà dalla banca, la banca si impossesserà in qualche modo della casa, si venderà. Il problema è questo, che non è che si andrà dalla banca, è la banca che verrà dal consumatore e dirà bene, da questo momento questa casa è mia, lo farà d'imperio, secondo la legge, e venderà questo bene. Se la vendita del bene produrrà una somma inferiore al debito, il cliente non dovrà in nessun modo rimborsare la somma residua. Se è superiore, invece la somma residua verrà restituita alla famiglia, alla persona. Prima di dare le nostre indicazioni, le chiedo, Piccioli, lei ha detto, andrà in vigore per i nuovi mutui. Se io faccio una surroga, funziona o non funziona? Sono sottoposto a questa tipologia di decreto del governo? Assolutamente no, cioè anche surroghe di mutui sottoscritti precedentemente all'entrata in vigore di questa nuova normativa sono escluse dall'applicazione di tutte queste norme. Parleremo poi di altri aspetti, sempre riguardo a questa problematica, ma prima diamo le indicazioni ai nostri telespettatori. Melania? Come entrare in contatto con noi anche questa sera? Numero verde, ancora una volta, 800 508 990, qualora doveste trovare il numero occupato. Fate la vostra domanda in segreteria e poi la rivolgeremo nei nostri ospiti in studio. E-mail, attenti al lupo, chiocciolatv2000.it e ovviamente i social. Siamo presenti e attivi su Facebook e su Twitter anche questa sera, basta cercare la pagina del nostro programma. E allora per vedere, per capirne anche di più, abbiamo ascoltato un notaio, sono sempre molto attenti a queste vicende. Allora sentiamo il notaio Roberta Mori che ci spiega il provvedimento e ci aggiunge anche qualche ulteriore particolare per la discussione. Vediamo. Notaio, questo provvedimento di che si tratta e come funzionerà sostanzialmente? Diciamo che ovviamente si va verso una tutela del consumatore e del consumatore in difficoltà vista la situazione di emergenza. E quindi in questo caso si prevede che al momento della stipula del contratto le parti possano convenire che in caso di inadempimento di un particolare inadempimento protratto per almeno 18 mensilità, la vendita dell'immobile o il trasferimento della proprietà all'istituto mutuante estingua il debito. Quindi anche se il valore della casa sia inferiore al debito residuo. Invece in caso di eccedenza quello che ci sarà di più ovviamente spetterà al debitore. Quali ripercussioni ci potranno essere nella vita delle persone, delle famiglie che andranno a parlare in banca per stipulare e contrarre un mutuo? Diciamo subito che anche in questo caso la norma è una norma che prevede l'inserimento di una clausola facoltativa. Quindi gli istituti non potranno imporre al consumatore questo tipo di clausola e si dice che nella stipula di questa particolare clausola ci dovrà essere una particolare assistenza al consumatore. E ovviamente anche noi come notariato siamo sempre disponibili a fianco del consumatore per tutelarlo nel migliore dei modi. Con tutte queste formule esistenti ora sul mercato, qual è il ruolo del notaio in questo particolare momento storico? Il ruolo del notaio è sempre quello di un soggetto terzo, indipendente, che deve consigliare il cliente nel modo più opportuno, a seconda di quelle che sono le sue concrete esigenze, nel momento in cui gli si presenta un ventaglio molto ampio di offerte. Consideriamo le nuove proposte, il rent to buy, il leasing abitativo, le tradizionali formule appunto di vendita con mutuo. E appunto ricordiamo che il notaio quindi è da sempre un soggetto terzo, indipendente, che può collaborare sicuramente e anzi deve assistere il cittadino nella sua scelta. Dall'intervista con il notario Roberto Amori emergono altri due aspetti di questo provvedimento. Lo chiedo a Picciolini. Innanzitutto è facoltativo. Cioè la banca può o non può inserire questo tipo di clausola quando uno va a sottoscrivere il mutuo, ma poi alla fine lo faranno tutti, perché insomma in qualche modo è come l'assicurazione. Non è obbligatoria, però la banca per avere un mutuo te la impone, tra virgolette? Sì, è chiaro che il tentativo sarà questo, però la norma prevede che sia volontario e non deve essere motivo per non concedere il mutuo. Quindi già questo dovrebbe essere un aspetto abbastanza importante. Ma le garanzie sono anche altre, perché non solo appunto deve essere facoltativo, ma nel caso in cui il consumatore dovesse, diciamo così, sottoscrivere questa clausola, poi al momento in cui purtroppo dovesse capitare il fatto di non pagare le famose 18 rate, ci sono ulteriori garanzie, tra cui una frattante è quella che dovrà essere assistita da un proprio consulente. E l'altro altrettanto importante è che la casa andrà periziata in quel momento, l'ha fatta la perizia valutativa di quell'immobile, che sarà fatta da un perito indipendente è scelto dalle parti, ma nel caso in cui non ci si è accorto dalle parti, il perito sarà scelto dal tribunale. Queste sono delle garanzie a favore del consumatore. Presidente Righi, sono delle garanzie reali? Perché lei insomma un po' ce l'ha con le banche, lo so, quindi voglio dire, in qualche modo lei dice che c'è una sorta di conflitto di interessi con queste banche che operano, vendono casa, ora ti fanno il mutuo. Allora, in generale voglio chiarire, dipanare un po' questa cosa, no? Le banche, se non ci fossero le banche, la nostra società economica non starebbe in piedi. Poi ci sono banche e banche e quindi lì poi sulla serietà o di alcune banche ci sarebbe da fare qualche trasmissione. Noi diciamo invece che per noi è il concetto sbagliato, perché se io presto denaro e poi mi posso diventare proprietario del bene per cui ho prestato denaro, potrebbe darsi che, in un'ipotetica, usando sempre il condizionale, la banca potrebbe avere interesse nell'impossessarsi di quel bene e quindi fare in modo... Fa una stretta, conosce i conti, conosce un po' la vita. Il divieto di patto commissorio che vieta questa cosa è nel nostro codice civile proprio a tutela dei consumatori. E allora noi diciamo ai consumatori attenti ad andare sull'altro canale, cioè quello vecchio, per che motivo? Perché se voi fate un mutuo al 50%, una casa da 200.000 euro, fate un mutuo da 100.000 euro e vi fate prestare 100.000 euro, 18 rate, una rata da 500 euro, voi rischiate che con 9.000 euro la vostra casa... Cioè di perdere tutto per 9.000 euro, di perdere l'appartamento, la casa... E può succedere che qualcuno rimanga senza lavoro, che ci sia un problema, l'impossibilità a lavorare. Cioè questo decreto non tiene più conto della persona, ma finanziarizza il nostro mercato. E sappiamo che quando il mercato immobiliare è stato finanziarizzato abbiamo visto cosa è successo negli Stati Uniti. E' anche vero che poi è stato un recepimento di una direttiva europea, ne parleremo poi con l'altra intervista che abbiamo fatto e tra poco vi faremo sentire, ma come sempre spazio, spazio sempre ai nostri telespettatori. Sì, c'è la signora Rosalba che ci chiama da Cagliari, è in linea. Pronto? Pronto. Buonasera signora Rosalba. Buonasera. Prego. Allora, posso parlare? Ci dica, ci dica tutto. Allora, mio figlio a dicembre dovrebbe finire il mutuo della casa di 15 anni che ci ha dato la regione, ma naturalmente tramite la banca. Vorrei sapere se alla fine dobbiamo togliere l'ipoteca oppure lasciarla che cara da sola. Questo è importante perché mio figlio purtroppo è senza lavoro. Grazie. Grazie, grazie. Insomma, e questo poi l'ho spaccato perché poi senza lavoro purtroppo uno può davvero restare imbrigliato nel sistema produttivo che arranca e quindi ha difficoltà a pagare il mutuo. In questo caso però che risposta possiamo dare, Presidente Righi? Noi consigliamo di non togliere l'ipoteca se non ha necessità di vendere. Se deve vendere l'immobile, allora l'ipoteca naturalmente prima della cessione va tolta. Altrimenti l'ipoteca si estingue naturalmente dopo un certo periodo di anni. Quindi non affronti questa spesa, non ce n'è bisogno. Picciolini, l'altro aspetto dell'intervista del notario era quello dell'assistenza ai consumatori. Ci sarà una persona che nel momento in cui la banca, come diceva il Presidente Righi, chiamerà la persona a dire, ora non hai pagato 18 mesi, vediamo cosa dobbiamo fare, ci dobbiamo prendere questa casa, bisogna andare con una sorta di assistente. Chi sarà questo assistente? Si è già capito? Perché insomma il decreto da questo punto di vista lascia qualche perplessità. No, il decreto dice solamente che è un consulente di parte, quindi che è a favore, che deve difendere gli interessi del consumatore, in questo caso mutuatario. Noi ci aspettiamo che una volta emanata la norma, al più presto ci siano dei regolamenti applicativi, ovvero la normativa di secondo grado, come si usa dire tecnicamente, per chiarire questo, ma anche tanti altri aspetti che su questa normativa, a nostro avviso, debbono essere chiariti. Ma c'era anche un provvedimento dell'ABI, dell'associazione delle banche, che se la persona che ha contratto mutuo perde il lavoro, c'è una sorta di posticipo nel pagamento delle rate, è ancora così? Funziona? Se io perdo il lavoro posso in qualche modo congelare un periodo di tempo? No, questo esiste e rimane, ma sono due addirittura. Una è una legge dello Stato, chiedo scusa, che è il cosiddetto fondo Gasparrini, per cui a fronte di alcune situazioni, perdita del posto di lavoro, tanto per dire quella più importante, si può avere la sospensione per 18 mesi del mutuo. Poi c'è un accordo, ABB, associazioni di consumatori, per cui è possibile, in base alla legge di stabilità del 2015, è possibile appunto sospendere per 12 mesi comunque il mutuo. Queste sono norme e provvedimenti, agevolazioni, al virgoletto agevolazioni, che sono all'atre rispetto al decreto. A questo decreto, però a proposito di questo aspetto, è la cosa che gli italiani vogliono di più nella vita. Presidente, lei è sicuramente uno dei desideri di tutti gli italiani, spesso fanno dei mutui, hanno delle difficoltà. Melania, peraltro c'è una notizia drammatica oggi di Cronaca che proprio riguarda i mutui e delle persone che si sono purtroppo uccise proprio per questo motivo, non riuscivano a pagare il mutuo, è così? È così Giuseppe, una triste notizia di Cronaca, accade a Poggio a Cagliano, in provincia di Prato, una coppia, Lucio e Grazia, Lucio Leonelli e Grazia Spessato, si sono uccisi proprio perché erano tremendamente indebitati. Il mutuo da pagare era diventato sempre più opprimente, la banca aveva proprio minacciato il pignoramento della casa, loro non ce l'hanno fatta, hanno mentito dicendo che sarebbero partiti in Bulgaria, in realtà non sono mai partiti, si sono ammazzati due mesi fa e i loro corpi purtroppo sono stati trovati senza vita soltanto poco tempo fa. Posso dire una cosa su questo tema? Proprio un appello. Tante volte noi vediamo le persone che vengono in agenzia e approcciano mutui al 100%. Non fate i mutui al 100%, perché il mutuo al 100% è una scommessa. Tenetevi un po' di liquidità da una parte, perché noi vediamo che solitamente quando la banca è molto esposta, quindi quando concede questi mutui, poi alla fine naturalmente è anche molto più severa con chi paga le rate. Se invece c'è un po' di equiti, il 20%, il 30% di questa somma, allora si può discutere con la banca. Quindi attenzione. Comprate una casa più piccola. Comprate una casa più piccola, andate in affitto, risparmiate e poi comprate. Te lo dico, se vuole, anche contro gli interessi degli agenti immobiliari. Però queste cose sono... Perché oggi è stata riportata questa notizia, ma tanta gente che non paga i mutui versa veramente in condizioni drammatiche. E allora, attenzione, la casa si compra se c'è la possibilità di avere un margine. Altrimenti c'è l'affitto, ci sono altre possibilità per avere una casa. E queste parole le fanno onore, Presidente, perché lei è Presidente degli agenti immobiliari, quindi è attento un po' a tutte queste sfumature, anche sociali, e sono importanti. Se posso aggiungere che è un corollario, non attendere di andare in default, non attendere neppure una rata in ritardo. Cioè, se ci sono problemi, o in banca, o se sono i consumatori, da chi vogliono loro, ci sono delle strade da percorrere. Non è una vergogna, perdere il posto di lavoro, avere delle difficoltà, se fino a dieci anni fa era una vergogna, oggi accomuna metà degli italiani. Quindi non abbiate paura, rivolgetevi, appunto, come ha detto Pinciolini, a chi volete voi, ma non abbiate paura di dimostrare la vostra insolvente. Le domande dei nostri telespettatori. A proposito di questo, c'è un nostro telespettatore, Livio, visto che state appunto parlando del tener conto delle persone. Livio ci dice, ma di fronte a casi di evidente stato di bisogno, di gravi difficoltà economiche, proprio dell'impossibilità di adempiere, ci sono delle forme di tutela previste da questo decreto mutui? Dal decreto mutui anche, sì, c'è qualcosa, ma abbiamo detto prima che ci può essere una sospensione delle rate per un certo periodo. Il decreto mutui dice, ma qui servirà una norma molto precisa, da parte del legislatore di secondo livello, della Banca d'Italia in particolare, perché c'è una norma precisa che dice che ci deve essere particolare riguardo per situazioni di difficoltà economiche. Quindi questo qui sarà un discorso su cui vorremmo e vogliamo essere coinvolti, perché certamente è necessario che non sia solamente un fatto tecnico, ma ci sia anche un fatto sociale. E allora, sul decreto, ma anche se questo mercato immobiliare si sta davvero risvegliando, l'abbiamo chiesto a un economista e poi con i nostri esperti in studio vedremo davvero se è così, se insomma queste case che hanno perso tanto valore perderanno ancora valore oppure stanno un po' riprendendo i prezzi. Abbiamo sentito l'economista, il rettore dell'Università Unicusano, il professor Fortuna. Sentiamo. Intanto è un obbligo in quanto esiste una direttiva europea a riguardo, quindi noi ci siamo adeguati, perché le direttive vanno recepite dagli Stati membri e quindi eravamo costretti, altrimenti sarebbe stata aperta una procedura di infrazione. Non avevamo molta scelta, ecco. Naturalmente poi i Stati membri possono in questi casi orientare la propria legislazione nel rispetto della direttiva. I 18 mesi, sì, è un discorso importante perché consentirà alle banche di entrare in possesso del bene che era stato dato in garanzia e quindi di saltare tutte le azioni esecutive che prima invece erano necessarie. Quindi quando colui che deve pagare non pagherà 18 rate consecutivamente la banca potrà direttamente procedere alla vendita del bene. e quindi saltare tutto il processo, il tribunale... Cioè, in 18 mesi potrà risolvere una cosa che normalmente risolve in tre anni e mezzo, ma si arriva anche a sette anni. Sta ripartendo, secondo lei, il mercato immobiliare. Ci sono segnali interessanti all'orizzonte o è tutto ancora abbastanza fermo? Il mercato immobiliare, a partire dall'altro anno, ha avuto dei miglioramenti. Questo è un dato incontestabile che noi possiamo ricavare sia dalle analisi che fa l'osservatorio sul mercato immobiliare che è dipendente dall'agenzia delle entrate, ma anche dai dati Istat. Quindi noi abbiamo un dato certo. Il mercato immobiliare un po' si sta riprendendo. È aumentato il numero delle compravendite. Questo già l'altro anno e quest'anno il trend sembra che vada avanti. Certamente prima di tornare ai livelli pre-crisi ci vorrà del tempo. È diventato più semplice, tra virgolette, avere un mutuo perché le banche hanno avuto grandi liquidità per effetto delle manovre di politica monetaria della banca centrale, il famoso quantità di vising e altre manovre. Le banche dispongono di tanti mezzi liquidi. È più facile l'accesso al credito. Quindi per i mutui il discorso è più semplice. E poi l'altro vantaggio grande è costituito dal fatto che i tassi sono diminuiti in modo notevole. Oggi abbiamo tassi sui mutui inferiore al 3%. Insomma, per capire, dopo le parole del professor Fortuna, dove va questo mercato immobiliare? Dobbiamo chiedere al presidente Righi, al presidente degli agenti immobiliari. Insomma, chi ha una casa in questo momento verrà sempre più deprezzata o si riprenderanno un po' la quota di questa casa. E conviene in questo momento comprare? Beh, allora, diciamo che il mercato immobiliare va visto come un mercato a medio e lungo periodo. Quindi l'investimento immobiliare non è più come quello del periodo prebolla in cui compravi e vendevi e guadagnavi un sacco di soldi. Oggi va visto come un investimento a medio e lungo periodo che però tiene l'inflazione e ci mette a riparo eventualmente dagli scandali. Abbiamo visto banche Etruria, i bond e tutte queste cose qua. Quindi c'è un interesse risvegliato da parte dei cittadini. Le tasse sono ancora altissime. È stata tolta la tassa sulla prima casa, ma stiamo lavorando. Il governo, il presidente Renzi, si è impegnato a ridurre la pressione fiscale sulla casa. È diventato conveniente con l'ultima legge di stabilità anche acquistare per affittare perché c'è la cedolare secca. C'è una norma che per coloro i quali affittano la propria seconda casa abbassa l'imposizione di immuotasi a livello comunale del 25%. Quindi c'è una voglia di favorire l'immobiliare. I tassi, come diceva il professore, sono bassi e per noi oggi ci sono prezzi molto interessanti che si possono ritrovare andando nelle agenzie immobiliari. Quindi il nostro consiglio è se qualcuno vuole fare un investimento avventuroso, cioè nel senso di breve periodo, si rivolga alla borsa, se vuole mettere al sicuro i suoi soldi, oggi l'immobiliare è ancora un ottimo investimento. Prima di dare spazio ai nostri telespettatori, una battuta picciolini. Conviene mutuo a tasso fisso, variabile, variabile con un tetto, tutti si fanno questa domanda. In questo momento del mercato, proprio in 20 secondi, è un aspetto. la meraviglierò, ma in questo momento dico tasso fisso. Quanto è il tasso fisso attualmente? Sotto il 3%, 2,75, 2,50, 2,40. Se lo devi fare nel lungo periodo, chiaramente. Ma il mutuo è a lungo periodo, il mutuo non è mai sotto i 20 anni ormai. Siamo arrivando a quelli di tasso fisso. Le domande ai nostri telespettatori. Melania? Una nostra telespettatrice ci scrive a 80 anni un mutuo di 500 euro al mese. Mio marito è morto un mese fa ed era lui il garante del mutuo con la sua pensione. Lei vorrebbe sospendere il mutuo per almeno un anno? Si è rivolta alla sua banca e la banca le ha detto di no. Picciodini, la morte del coniuge non rientra tra i motivi purtroppo di sospensione di cui abbiamo parlato poc'anzi. Quindi diciamo che l'unico modo è una scelta volontaria della banca mutuante che però mi sembra di capire che non possa, che non voglia, mi sembra di aver capito. E quindi purtroppo vedo la situazione abbastanza difficile. mi meraviglia che a 80 anni ci sia ancora un mutuo accesso chissà, forse è un vecchio mutuo di trentennale e cose del genere. Probabilmente è quasi alla fine, probabilmente. Ancora, Melania? Un'altra nostra telespettatrice chiede ma se la banca vende la mia casa all'asta io poi posso partecipare all'asta? Presidente Riggi? Sì, sì, tutti possono partecipare ad un'asta, si può rivolgere appunto alla banca, all'asta e fare la propria offerta. Sulla questione sempre dell'immobiliare e delle case, dove in questo momento conviene di più acquistare? C'è stato il periodo della crisi dove insomma i prezzi diciamo nel centro delle principali città sono rimasti abbastanza stabili. Si sono persi tantissimi soldi nelle periferie delle città dove i prezzi sono crollati. è sempre così Presidente in base al suo monitoraggio costante quotidiano? Gli immobili sono nei centri nelle grandi città sono sicuramente i prezzi sono stabili. Nelle periferie i prezzi sono ancora in calo saranno ancora in calo per tempo perché chi si rivolge all'acquisto chi si rivolge all'acquisto oggi avendo dei prezzi interessanti che cosa fa? Cerca delle posizioni ottime e i prezzi oggi sono buoni anche dentro le cinture urbane nei tempi pre-crisi se qualcuno voleva comprare poteva comprare solo in periferia quindi ecco abbiamo un mercato a due velocità quello della periferia e quello delle città quello delle città è stabile e quello delle periferie sarà ancora in calo le case al mare e montagna è un addio ce ne siamo dimenticate una rivederci le case turistiche oggi sono un ottimo investimento noi lo consigliamo spesso perché nonostante questa pressione fiscale guardi allora la pressione fiscale è altissima però c'è un fenomeno che riguarda un po' la condizione socio-economica e politica dell'area europea che vede certi paesi non più frequentati a livello turistico da noi italiani tipo l'Egitto tutta la parte africana molti italiani scelgono di fare le ferie in Italia e quindi l'investimento sulla seconda casa è un ottimo investimento ottimo investimento Melania prima parlavate di tassi che convengono fisso e variabile c'è Gianni che dice voglio aiutare mia figlia a comprare una piccola casa a Roma contrariamente a quello che avete detto in studio a me non ho consigliato il variabile forse perché devo farlo in dieci anni mi potete spiegare questa differenza dieci anni forse sì vero Picciodini conviene il variabile probabilmente sì perché siamo quasi un punto sotto rispetto al fisso si immagina ma qui serve la palla di vetro che per 4-5 anni i tassi resteranno bassi quindi a dieci anni probabilmente sì Picciodini possiamo dare un consiglio perché c'è un altro elemento la surroga la possibilità gratuita di cambiare banca se io ho acceso un mutuo sto pagando un mutuo posso cambiare banca e magari mi conviene di più che cosa devo stare attenti nel momento del passaggio oltre ad andare a chiedere a più istituti di credito innanzitutto che le condizioni siano migliori di quelle che lascio mi sembra abbastanza ovvio no ma c'è invece un passaggio estremamente importante che spesso viene scarsamente valutato che è proprio legato a quello che ho detto adesso cioè uno guarda solamente quali sono le condizioni nuove per poter vedere il vantaggio della surroga tenuto conto che si riparte da capo quindi si riparte pagando tantissimi interessi bisogna fare il conteggio del vecchio mutuo diciamo 100.000 euro per dare una cifra ma per il nuovo mutuo bisogna fare il costo del nuovo mutuo più quello che già ho pagato perché altrimenti rischiamo di vedere solamente il futuro dimenticandoci che comunque abbiamo pagato in passato già il bei soldini grazie ai nostri ospiti grazie a Fabio Picciolini dell'Adi Consul grazie al presidente Paolo Righi presidente della federazione italiana agenti immobiliari professionali noi chiudiamo per statera qui la trasmissione Melania ci vediamo domani sera noi ci vediamo domani sera ma intanto vi lasciamo a Revolution pregate per me la striscia quotidiana di Revolution condotta da Rihanna Ciampoli oggi con Lucia Ercoli medico e volontaria di Medicina Solidale un'associazione che si occupa della salute degli ultimi anche con l'aiuto di Papa Francesco adattenti al lupo domani ore 19 in diretta ci occupiamo di 7.30 visto che è tempo di dichiarazione dei redditi facciamo un po' il punto della situazione cerchiamo di capirne di più in materia di detrazioni di deduzioni quindi mandateci le vostre domande perché domani sera con gli esperti parleremo di detrazioni deduzioni 7.30 come compilarlo che cosa è possibile risparmiare sulle tasse ogni anno che sono sempre tantissime come dicevamo anche oggi in trasmissione grazie a tutti a domani sera ore 19 in diretta grazie a tutti grazie a tutti